e qui mi trovo a Ichiran praticamente nel cuore di Shibuya un caos totale perché sono qui in questo piccolo box dove praticamente si mangia perché praticamente quando sono stato due settimane fa a Dublino ho conosciuto un giapponese che stava anche lui lì a fare insieme a me uno dei tre che ha fatto insieme a me l'Accademic Ines per la corretta aspiratura e ci hanno anche dato il certificato lui praticamente gli ho detto guarda che io fra due settimane vengo a Tokyo lui non ci poteva credere e mi ha detto guarda che io lavoro in un ristorante tipico di ramen una catena Ichiran è una catena famosa in Giappone proprio specializzata nel ramen e praticamente gli ho detto guarda io non l'ho mai mangiato in vita mia la prima volta che vengo lo vengo a a mangiare da te quindi dimmi quando tu ci sei e dove stai che ci mettiamo d'accordo per per incontrarci rivederci e mangiare il ramen il tuo ramen è così fu io ora adesso sono in attesa qui l'acqua è gratis si prende il tuo bicchierino è tutto in giapponese ovviamente mi sono fatto consigliare da lui perché da solo avrei avuto non poche difficoltà a capire che cosa stavo ordinando però come si dice sono quelle tipiche esperienze che devi fare una volta nella vita e vedere che cosa succede e adesso sono qui ad aspettare il mio ramen che me lo sta preparando forse lui stesso praticamente dopodiché niente passo le foto perché giustamente con lui parlo in inglese eccetera eccetera non mi sembra corretto anche per privacy far vedere una persona che lavora tutto qua però sappiate che questa esperienza nel piccolo box l'ho fatta anche io ciao vai